Nello zainetto che nascondeva nel bagagliaio dell'auto aveva un vero e proprio bazar della droga. 180 grammi di cocaina, mezzo chilo di marijuana e 1,3 kg di hashish, un bilancino di precisione e 1160 euro in contanti, provento probabilmente dell'attività di spaccio. Per questo i carabinieri di Fano hanno arrestato in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio una giovane mamma di 29 anni incensurata che si trovava al volante della sua utilitaria nella zona di Bellocchi con a bordo uno dei suoi due bambini. C'è voluto l'occhio clinico di uno dei due agenti dell'arma di pattuglia durante un servizio in borghese per riconoscere il volto della giovane e ricordare l'occasione in cui l'aveva visto. È la convivente di un pluri pregiudicato sottoposto a controlli e affidato ai servizi sociali per reati sempre in maniera di stupefacenti. Da qui la decisione di fermarla e l'agitazione della donna alle domande di rito mette sul chivalà gli agenti che così decidono di perquisire l'auto e rinvengono in questo modo lo zainetto con la droga e i contanti. Ora la donna è agli arresti domiciliari in quanto mamma di due bambini piccoli e nei prossimi giorni ci sarà l'udienza di convalida.